Siamo con voi, noi del sindacato italiano e soprattutto il sindacato mondiale, federazione internazionale dei giornalisti e oggi all'onore di rappresentare in questa grande dimostrazione pubblica. Quanto succede qui in Grecia, con la chiusura della radio e della televisione pubblica dalla nòte al mattino, è una ferita gravissima, intollerabile. Un'esperienza di informazione, di cultura che è basata su una lingua storica della civiltà mondiale. La radice del pluralismo linguistico europeo non c'è, è stata negata, resa visibile a voi in Grecia, resa invisibile al mondo, è intollerabile. Il servizio pubblico è un bene pubblico, è un bene di tutti i cittadini e questo non è un fatto interno e esclusivo della Grecia. L'assenza del servizio pubblico è un bonus grave. Cosa si vuole? Che restino in campo solo le informazioni delle centrali private che hanno altri interessi? Si vuole regalare a qualcuno un bene pubblico, prezioso, fatto di strutture, tecnologia, frequenze e di un grande patrimonio professionale ed umano? Che vogliono fare? Vogliono cercare la telecomunica per i profili di idioticiche? Vogliono per la cultura, il politismo e l'enimerazione delle idiotiche? Quello che accade qui è un furto all'anima dei cittadini, un pezzo del loro corpo viene sottratto, un bene prezioso dalle vostre case è tolto. È un esempio grave che può creare un modello di distruzione della convivenza non solo qui ma in Europa e questa non è l'Europa che vogliamo. La Federazione Internazionale dei giornalisti condanna senza riserva la scelta del governo Samaras. Questo è il primo caso di un broadcasting europeo che viene spento e questo contrasta con la carta del label dell'europeo e dell'europeo broadcasting union. La Federazione Internazionale dei giornalisti mobilità tutte le organizzazioni federali dei giornalisti dei 180 paesi del mondo in cui è presente. Questo è il primo caso in cui si crea una ferita così grave e non può andare avanti così. Il nostro presidente Jim Bumela ha scritto al vostro capo del governo e gli ha chiesto di tornare indietro. Gli ha anche detto che la Federazione Mondiale è disposta con i sindacati dei giornalisti greci, Pesi, Puisi e Isia, è disponibile con tutti i sindacati dei lavoratori della Grecia a lavorare per trovare soluzioni. Ma qui non si può accettare che se c'è qualcosa che non va si uccide, se una persona è malata non si uccide si cura. Il Jim Bumela, il Presidente della Grecia, ha scritto al vostro capo del pubblico. ha scritto alla Camera che vuole una luce per rinché al vostro capo del pubblico. Andremo anche a Bruxelles con voi lunedì o martedì prossimo Ci muoveremo continuamente Oggi in Italia ci sarà una dimostrazione davanti all'ambasciata greca Abbiamo organizzato una raccolta di firme sul sito www.change.org Per dire no Idaleen di mozio grado porco Idaleen di mom小心 Sarete C Sharp Come to sito Idale di12 Idaleen di blog Idale di domesioi Tampi tracciate Ida, di bambina, di jantari Di bambina Grazie Sarete Ida, Ida, Ida Viva 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 Ida, 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 Ida Viva Ida, 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 Ida Grazie tanto, grazie tanto Franco, siamo insieme! Grazie a tutti!